Buongiorno ragazzi, buon mercoledì 3 luglio, sono le 5 e mezza del mattino, voi non lo sapete perché voi vedrete il video dopo le 7 e mezza, quindi sono le 5 e mezza del mattino, mi sono appena svegliato, ho fatto la doccia ed eccoci qua. Allora ragazzi, ieri il 90 a Milano è uscito solo soletto come ambata semplice, ma noi le ambate semplici non le consideriamo perché è una vincita irrisoria, fosse uscito in posizione in seconda e terza era un discorso, ma il 90 come ambata a Milano a me non me ne può fegare di meno perché non si recuperano neanche i soldi della giocata. Quindi Milano si toglie, nelle previsioni aggiornate troverete la previsione con il 90 solo su Napoli, quindi troverete non più Milano, troverete solo Napoli il 90 con il 23 e il 44, due ambi a Napoli con il 90. Milano si toglie, ok? Quindi l'unica modifica che troverete negli aggiornamenti è il Milano-Napoli, quindi Milano non c'è più ma c'è il 90 a Napoli con il 23 e il 44. Insisto col dirvi, occhio, perché io ci credo tantissimo a Lambo di Milano, 39-60, ci tengo tantissimo e ancora questi tre colpi ci tengo tantissimo a Bari, ieri è uscito il laterale il 27, io ci credo molto al 28, 28-32, ci credo tantissimo, sono i due ambi che ci credo di più. Poi occhio che a Bari ho aggiunto anche Lambo 9-12 che non mi dispiace. Troverete gli aggiornamenti con la modifica l'unica, quella di Milano-Napoli con il 90 che non c'è più Milano e c'è solo Napoli, con il 90 e i due abbinamenti 23 e 44. E' un video molto veloce questa mattina perché non ci sono novità, se ci fossero novità nell'arco della giornata o comunque domani io vi tengo sempre aggiornati. Adesso non chiudete per favore e riguardatevi con calma l'aggiornamento per le previsioni l'8 di domani, giovedì 4 luglio. Eccoli qua ragazzi, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!